In questo preciso istante sono impegnato a contare le mattonelle verde acquaco di fronte, ma non tutte, solo quelle storte, cioè la maggioranza. Lo faccio per controllare che le mie facoltà mentali siano ancora intatte mentre sono seduto su questa sedia del pronto soccorso. Avevo deciso di iniziare la mia carriera di giurisprudenza dall'altra parte. Erano ormai diversi anni che vendevo fumo e bici tra una sessione d'esame e l'altra saltata a pie pari. Attività tanto redditizia quanto berato dalla concorrenza in una città come Pisa. Ma nel mese di maggio del mio secondo anno fuori corso avevo casualmente scoperto quel grande talento che mi aveva portato fin qui. Quando la vecchia Fiat Punto mi colpì poco sopra il ginocchio scoprì che il mio organismo aveva una soglia del dolore molto alta. Attribuì questa capacità alla cannabis assumevo tutti i giorni regolarmente poiché la politica mi annoiava ed il calcio non mi era mai piaciuto. La Punto apparteneva ad un certo Aziz detto Aziz, immigrato marocchino da cinque anni irregolare in Italia. Sta bene? Sta bene? Sta sveglio? Sta bene lui? Sta bene? Sta bene? Sta bene? Sta bene? Sta bene? Sta bene? Tu no via? Tu via? Tu via via? Può andare via? Può andare via? Anche tu? Tu via 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 via? occupo io? Chiamo io tutto? Faccio tutto io? Non vi preoccupate? Oh tu sei comunista? Sei comunista di sinistra? Sì ma perché? Tu fa tornare me in Marocco così. Io non posso tornare in Marocco pure senza la macchina. La macchina? Ma mi hai messo sotto? Ascolta ascolta tu fa tornare me in Marocco io ho tanti anni che sono in Italia io stare in Italia per portare soldi a mia famiglia. Va bene va bene sei immigrato ma mi hai spaccato al ginocchio mi sento tutto Ascolta 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 mi darete 300 euro se tu non denuncia a me Eh? Io darete 300 euro e tu non denuncia a me tu va a ospedale dici che sei cascato di bicicletta ma mai visto me io non ho mai stato qua se no carabinieri prendere e fare foglio per andare a casa io non posso 350 e sono caduto dal triciclo Era iniziata così la mia nuova attività in barba ai giri dalle invisibili forme Roccoco sui selciati della città e ai cacofonici bici fumo bisbigliate alle coppie pomicione Un'attività che col tempo si era rivelata arredditizia e relativamente usurante Bastava scegliere macchine ad uso tipico di immigrato preferibilmente irregolare ossia tutti quei modelli considerati indistruttibili che un italiano non compra più Certo con certe 500 modello 1997 ci si poteva ancora sbagliare ma in quelle occasioni bastava dare un'occhiata veloce all'eventuale presenza di peluche nell'abitacolo Per far scendere drasticamente la drammaticità delle conseguenze bastava Lanciarsi sempre con un piccolo saltello con la mano sinistra nascosta pronta a pilotare per quanto possibile l'impatto col cofano E poi spalle avanti, mai la testa contro il vetro Il rumore poi era fondamentale Un grosso botto con l'impatto era uno degli effetti speciali di più successo Il libretto, cazzo, l'esame, cazzo La borsa, cazzo, la borsa Fortunissime piani di carta La mia impegnata agenda non mi permetteva più di frequentare l'università come al tempo del ciclismo di spaccio Non tanto per le pagine fitte di impegni quanto per il recupero necessario dopo gli appuntamenti di lavoro I risultati di diritto pubblico Esame che stavo preparando da circa un anno e che è il vero e proprio spartiacque della mia carriera universitaria Ero convinto che la votazione fosse collegata alle occorrenze mestruali della Giovanardi E stavo quindi calcolando l'appello migliore con l'aiuto di un astrofisico Qua manco Margherita Sono gli esami della Giovanardi quelli? Sì, Cagna Oh, ma come ti permetti? No, scusa, ma non dicevo mica a te, ma a quella cagna fertile della Giovanardi Ah, mi pareva Sai, con questo maschilismo sempre crescente bisogna stare in guardia Sono dappertutto I misogini, intendi? No, non i misogini, i maschilisti No, io intendevo... Ah, sì Ero ormai entrato in modalità orsetto minchione Essere remissivo a tutti i costi Non stati quindi a sindacare e fatto un veloce inventare delle carte a disposizione e decisi di giocarmi il jolly Devi fare l'esame con la Giovanardi pure te? Sì, anche te Sì, ma io so tutto di diritto pubblico Se vuoi ti offro un caffè Ti offro un caffè al bar, così ti dico dell'esame Va bene, io sono Giada, Giada De Clementis, figlio del Cavaliere del Lavoro Carlo De Clementis di Firenze Io sono Matteo Matteo Rubicondi, figlio di esperto manutentore di prodotti derivati dalla gomma a Galeazzo Rubicondi Da Pontapieve Scavo Ossia gommista Ma guarda, l'esame non è difficile se hai dimestichezza con la psicologia junghiana e se hai letto Il Capitale di Marx Te l'ha letto? Sì, ovviamente un paio d'estati fa Ma io ci tengo a dirlo, sono un prudoniano Un prudoniano di ferro, eh Anche se ho avuto la mia fase vacuniana Per ora stai bene Scusami? No, non ti stavo seguendo No, dico, hai superato Banco Sì, sì, sì E senti, come stai messa con lo statuto Albertino? No, insomma FAO, UNHCR, Corte Europea, Sovrano Ordine Militare Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Lago di Malta? No E senti, legge 134,1,2,3,4 Poi ho i commi, sì Io coi commi, i nomi latini, i numeri non ci ho mai capito niente, davvero Sono sempre stata negata per queste cose Che poi io giurisprudenza neanche la volevo fare E' stato mio padre a insistere Io all'inizio volevo fare ingegneria gestionale Perché sono sempre stata portata per organizzare le cose, tipo le feste di compleanno, le giornate al mare Ma anche le cose serie, tipo con i soldi, i rischi dei legali, le cene E poi un giorno ho incontrato sto tipo, un ingegnere informatico Pure un po' bruttino tra l'altro E mi fa Guarda che il gestionale non è mica ingegneria E allora, e allora io ci ho pensato Ci ho pensato veramente E mi sono detta che nel dubbio era meglio fare qualcosa per cui ero portata veramente L'estetista E se poi ci pensi, non è tanto diverso da ingegneria gestionale È sempre in qualche modo togliere lo sporco, lo sgradito, il brutto Fare le cose fatte bene in un certo senso Però poi mio padre ha insistito tanto per giurisprudenza, quindi Ma sai, giurisprudenza è una materia interessante quanto difficile Te però ne sai Eh sì, io effettivamente ne so molto Se vuoi posso darti una mano con diritto pubblico Davvero? Certo Sì, vabbè, diciamo che per me è un ripassino È così che è iniziato il mio corteggiamento verso Giada Grazie 10 euro, grazie No, lascia, lascia Lo faccio io Gio cappucci, due pasti e un bicchiere d'acqua E un'estate alla testa E un'estate Un'estate? 5,80 Giada hai 30? No Eh, niente, però, 50, 50 hanno bene Non sapevo che andavano bene Che prendi? Boh, che mi offri? Camporino? No, uno spritz Due spritz? Oh, buono Me lo incarto No, guardi Non si fa una bella sorpresa la sua fidanzata Che dice, facciamo una bella coppia insieme? Sconti uno che ho vinto nella vostra parte Sono 20 Alla tessera No Perché ci sono degli sconti con la tessera? No 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 L'ultima settimana avevo fatto gli straordinari cercando di accumulare i soldi necessari per una cena da Calvini. Una stella Michelin, quattro forchette sul gambero rosso, camerieri con lauree in storia medievale e se si presentano a PostePay al momento del pagamento, è lì che avevo deciso di dichiarare il mio amore per Giada. In una sola settimana avevo protocollato. Con il risultato che mi ci vollero 10 minuti per salire sulla mia bicicletta e spingermi verso via Sant'Andrea in direzione di Piazza della Repubblica, luogo dell'appuntamento con Giada. Giada, io ti amo, vogli essere la mia ragazza? No, aspetta, devo dare enfasi al suo nome. Ma anche al ti amo, eppure al fatto che insomma al ristorante lo sto pagando io. Devo dare enfasi a tutto. Giada, ti ho invitato da Calvini, pago tutto io. Per dirti che ti amo. Vuoi essere la mia ragazza? Sì vabbè, così può andare bene, solo più convinzione, più uomo meno zerbino, più uomo meno zerbino, concentrato. Nessuna possibilità stavolta di mettere la mano avanti. Nessuna sceneggiata napoletana post-impatto. Inutile la finezza di colpire di spalle. Avevo abbracciato il SUV col mio corpo mentre ero girato dall'altra parte e mi facevo gli affari miei. Oh, oh, vieni, vieni. Oddio, ti ho arrotato. Eppure, è pure Romero questo. Matteo, sei te. Ma come stai tesoro? No, tranquilli, lo conosco, è un mio amico. Ora lo porto in ospedale. Ma sta bene, è solo un po' rincoglionito. Tieni, è vanilla, ti fa bene. Gatto, ascolta. 26. 26 mattonelle storte. Sto seduto qui aspettando che qualcuno dei dottori abbia voglia di giocare a Tetris con le mie fratture multiple. Mentre penso alla donna della mia vita. Le sue fossette appena accennate, la ruga che le compare in mezzo alla fronte quando sa che sta facendo una cazzata. Matteo, lo vuoi un caffè? Prendiamo un caffè, magari si fa bene. Sì, Gioada. Ce l'hai due euro? Sì, ma voi. Gioada, io ti amo. Vuoi essere la mia ragazza? Ma ecco, lo sapremo, le sfiga tutte insieme. Vado a prendere il caffè. 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 Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.